Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Non ce l'ha fatta Selena Cani la giovane di 22 anni è morta nella notte all'ospedale regionale Torrette di Ancona Raide di furti a Chiaruccia ladri a pancia a terra evitano i sensori e svuotano per la quarta volta il bar Polvere di Caffè Nuovo ospedale Marche Nord Ceriscioli incontra i sindaci di Pesaro e Fanno ancora nessun accordo preso da oggi decide la regione Progetti 2016 nasce un gruppo di lavoro nel comune di Fanno per intercettare i finanziamenti Buonasera, benvenuti a Occhio alla Notizia è morta la scorsa notte Selena Cani, la 22enne rimasta vittima lunedì scorso di un pauroso tamponamento in superstrada il servizio di Simona Zonghetti Ha smesso di battere nella notte il cuore di Selli la giovane di Lucrezia è morta nel reparto di reanimazione del Torrette di Ancona dove era ricoverata da lunedì dopo il tragico incidente avvenuto lungo la I-78 erano circa le 13 quando a causa di una foratura la ruota anteriore ha fermato l'auto sulla corsia destra della superstrada ma dopo pochi secondi è stata centrata sta violentemente da un Audi A3 condotta da un 31enne di Monte Felcino che trovandosela inaspettatamente di fronte non è riuscito ad evitarla in quel momento la 22enne era seduta al posto di guida parlava al cellulare con il soccorso stradale che dall'altra parte del telefono è stato testimone dell'incidente Selli avrebbe compiuto 22 anni il prossimo 17 novembre in suo ricordo in questi istanti si sta svolgendo un momento di preghiera nella chiesa San Apolinare un'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia di Selena e non ha mai fatto mancare l'affetto e la vicinanza in questi tre giorni di agonia e distrazio anche il popolo della rete l'ha sostenuta con l'hashtag io sto con Selli e con foto e pensieri che hanno invaso la sua pagina Facebook l'hanno sostenuta da lontano in ogni attimo ma stanotte quella forte speranza di poterla riabbracciare vederla sorridere di nuovo in pochi attimi è svanita nel nulla in tanti continuano a chiedersi il perché sia successo proprio a lei a quella ragazza dolce solare grintosa ancora non riesco a crederci scrive Dora non è giusto non doveva andare così non tu ti mando un bacio nel vento ti porterò sempre nel mio cuore non amo le storie senza un lieto fine ammette Federica ma so che le nostre vite sono state scritte da qualcuno la cui penna non è fatta di inchiostro ma di amore devo fidarmi quindi e lasciarti andare per una strada migliore sicuramente allora ti lascio volare Angelo ti ringrazio di averti incontrata di aver goduto dei tuoi sorrisoni dei tuoi progetti del tuo entusiasmo vola Angelo nostro e da lassù continua ad illuminare i tuoi meravigliosi genitori e tutti coloro che con grande gioia hanno condiviso con te i tuoi giorni buon viaggio e la piaga di furti in appartamenti e in esercizi commerciali non accenna a diminuire l'altra notte ride di furti nella zona di Chiaruccia a Fano e per la quarta volta di seguito quest'anno ancora una volta colpito il bar polvere di caffè hanno tagliato la siepe sfondato una vetrata sul retro della struttura ma a differenza delle altre volte l'obiettivo dei ladri non sono state le slot machine nella notte fra martedì e mercoledì scorsi si sono introdotti nel locale strisciando nel pavimento per evitare i sensori e non far scattare l'allarme poi si sono diretti nel magazzino ed hanno sportato blocchi intere di gratte vince e circa 60 stecche di sigarette non c'è tregua per il bar polvere di caffè adiacente al distributore di carburante in via Bellandra a Fano disperato e ancora incredulo il titolare Pierpaolo Marcantonini ci racconta che dopo questo episodio l'assicurazione ha voluto disdire il contratto e per ora nessun altro avrebbe intenzione di coprirlo visto che si tratta del quarto furto messo a segno in soli pochi mesi e per di più con un danno economico che si aggira attorno ai 10.000 euro il colpo è avvenuto in piena notte ma ad accorgersene solo alle 6.30 del mattino è stata la moglie che non ha potuto far altro che allertare le forze dell'ordine un altro furto nella notte è stato consumato ai danni della ditta Edil Gessi in via Chiarucciafano dove hanno rubato un furgone un Ford Transit contenente diversa attrezzatura di un valore complessivo di 20.000 euro ma i ladri non si sono fermati qui perché hanno preso di mira anche le abitazioni private sempre in zona Chiaruccia si sono introdotti in una casa passando dal garage e hanno rubato i fucili custoditi in una cassaforte il proprietario che in quegli istanti stava dormendo si è accorto del furto soltanto il giorno dopo quando intorno alle 13 ha chiamato i carabinieri di Fano che ora stanno indagando sui colpi la notte scorsa invece intorno alle 4.30 i militari di Mondavio sono intervenuti a Sant'Andrea di Suasa e a San Michele al fiume per due tentati furti nelle abitazioni e parliamo di sanità e del probabile ospedale unico Luca Ceriscioli ha incontrato i sindaci di Fano e di Pesaro per verificare se avessero preso un accordo circa il sito dove deve nascere il nuovo ospedale ma ad oggi ancora nessuna intesa a riguardo per cui la regione andrà avanti d'imperio da sola se ne parla da mesi ma ancora sull'ospedale unico non è stato trovato un accordo tra i sindaci di Fano e Pesaro che hanno visioni opposte sulla possibile ubicazione del nuovo nosocomio Seri a Chiaruccia e Ricci a Muraglia quello della sanità è stato il tema al centro dell'incontro avvenuto stamani in Ancona tra i due primi cittadini e il presidente della regione Luca Ceriscioli che ha voluto verificare se le due amministrazioni avessero raggiunto un'intesa sul sito i tempi per trovare una sintesi sono stati più che adeguati non si può aspettare ancora ha detto Ceriscioli è troppo lunga l'attesa per gli operatori sanitari e per gli utenti ai quali in questi cinque anni si sono chiesti sacrifici in vista dell'accorpamento in un'unica struttura dell'attività che oggi è divisa in tre plessi distinti è arrivato il momento di decidere sostiene il presidente e di avviare il percorso per realizzare l'ospedale unico da oggi decide la regione di questo argomento se ne è parlato anche mercoledì sera durante il programma di Fano TV primo cittadino in cui il sindaco Seri ha ribadito il suo pensiero non ho gradito l'atteggiamento del collega pesarese che nei giorni scorsi ha dato il termine di un mese per trovare un accordo ha detto Ricci infatti rimane inflessibile e continua a bocciare la proposta di Chiaruccia io non ho gradito e l'ho anche detto agli organi di informazione l'atteggiamento perché tra sindaci non ci si danno ultimatum si cerca di ragionare poi ognuno di noi rappresenta gli interessi di una città ma quando parliamo di sanità dobbiamo volare alto quando parliamo di nuovo ospedale se si deve scegliere un'ubicazione la si deve scegliere nel posto più giusto per la gente e non a caso io mi sono già confrontato anche con molti sindaci dell'entroterra che hanno anche apprezzato il mio modo di lavorare il mio modo di coinvolgerli io ho indicato Chiaruccia sulla quale onestamente più ci penso e più l'analizzo e più sono convinto che sia il posto migliore però è chiaro io sono il sindaco di Fano potrei non essere obiettivo però è un'area completamente pubblica completamente pianeggiata che si trova vicino all'uscita dell'autostrada vicino alla superstrada da Lunano si arriva prima a Chiaruccia che a Pesaro città però è un dibattito che va approfondito lo stesso presidente dice qui non ci sono soldi per il nuovo ospedale allora io qualche preoccupazione ce l'ho rischiamo di parlare del nulla però è anche vero che bisogna anche cercarli e non vorrei che domani quando si dovrà parlare del sindaco Seri che sulla sanità non abbia fatto tutto quello che doveva fare per la sua città e questo è un argomento che ce lo ritroveremo ancora per altro molto tempo ed ora una notizia di Cronaca Nera un uomo di 56 anni di Monte Felcino è stato trovato morto questa mattina all'interno di un'auto una punto verde in via del Moletto a Fano il suo corpo ormai esamine è stato avvistato da un passante residente nella stessa via i sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso si ipotizza che l'uomo celibe presumibilmente con problemi familiari avesse ingerito farmaci con lo scopo di compiere il gesto estremo sull'accaduto stanno indagando gli agenti del commissariato di Fano coordinati dal dirigente Stefano Seretti intervenuti sul luogo insieme agli uomini della scientifica i poliziotti hanno trovato dentro la vettura diversi medicinali sul corpo del 56enne è stata disposta l'autopsia ed ora andiamo a Marotta per la vicenda del passaggio a livello perché i cittadini dell'associazione attraverso Marotta sono a favore della chiusura del passaggio a livello e dei finanziamenti che mette a disposizione le ferrovie dello Stato ma contrari alle opere accessorie collegate serve dicono un progetto adeguato alle reali necessità della cittadinanza ci hanno rilasciato una dichiarazione sentiamola come associazione di cittadini riteniamo che la chiusura del passaggio a livello richiesta dalle ferrovie dello Stato possa e debba diventare un'opportunità di crescita e miglioramento della qualità di vita dei cittadini dei turisti e di tutti coloro che gravitano sul nostro territorio per questo chiediamo fortemente che i finanziamenti pubblici di oltre 5 milioni di euro stanziati dalle ferrovie dello Stato per le opere sostitutive all'infrastruttura alle nostre spalle vengano spesi per un progetto misurato ai reali bisogni della città l'incontro con il vice prefetto di ieri pomeriggio ci ha lasciato perplessi poiché non ci è chiaro come mai la massima autorità del governo nella nostra provincia non abbia ancora verificato se il progetto approvato sia conforme alla legge vorremmo porre l'attenzione sul fatto che l'intero sottovia carrabile di via Ugo Foscolo a ridosso del fiume Cesano è previsto nell'unica area a più alto rischio di esondazione di tutto il territorio comunale area in cui il piano di assetto idrogeologico regionale del 2004 per preservare l'incolumità dei cittadini proibisce la realizzazione di nuove costruzioni ci chiediamo pertanto come mai un'amministrazione pubblica possa solo pensare di inserirci un'infrastruttura troppo spesso purtroppo non si rispetta l'elevata fragilità idrogeologica del nostro territorio e forse per l'assenza totale di progettazione e controllo preventivo che viviamo in un paese in cui si verificano disagi imbarazzanti che ascoltiamo quotidianamente in televisione e a cui irrimediabilmente soccombano i cittadini è sorprendente il silenzio dell'autorità di Baccino è invece un buon segno che il presidente del Tarra voglia vederci chiaro ha fissato l'udienza definitiva in tempi molto ristretti e si deciderà anche per la sospensiva non possiamo rassegnarci alla mutilazione della nostra città per questo l'associazione proseguirà nella propria posizione con tutti strumenti possibili il mondo del lavoro è sempre sotto lo scacco della crisi proclamato lo stato di agitazione nello stabilimento di Mondolfo della ditta Corgi S.p.a del gruppo Nexion con una sede a Correggio alla notizia dell'apertura della procedura di mobilità per licenziamento di ulteriore nove lavoratori lo rendono noto FIOM FIM UILM e la RSU Progetto 2016 nell'ufficio del sindaco Seri questa mattina si è fatto il punto sui lavori pubblici nella città di Fano l'assessore Cristian Fanesi ha annunciato la nascita di un nuovo gruppo di lavoro per intercettare sempre di più i fondi europei sentiamo Hashtag Progetti 2016 è lo slogan scelto dal comune di Fano per lanciare un nuovo gruppo di lavoro interno all'amministrazione comunale che entro il 31-12 dovrà studiare e preparare dei progetti necessari ad intercettare tutti i possibili finanziamenti che nel tempo potrebbero pervenire dalla regione dal governo o dai fondi europei sono stati presi diciamo persone da anche altri uffici viabilità urbanistica che daranno una mano al gruppo di lavoro e quindi all'ufficio tecnico del comune di Fano che ha già lavorato molto bene in quest'ultimo anno a cui chiediamo uno sforzo in più per arrivare e raggiungere questo obiettivo il mio assessore ai lavori pubblici Cristian Fanisi questa mattina ha illustrato gran parte delle opere in atto e in programma insieme al sindaco Seri e al dirigente Giangolini sono stati aggiudicati i lavori per lo spostamento della scuola materna da Ponte Sasso a Torrette e verranno affidati quelli per il recupero dell'edificio dell'ex genio marittimo al porto di Fano per circa 70.000 euro la struttura diventerà un ufficio IAT un punto di informazione della provincia all'ente che finanzierà l'intervento oggi pomeriggio invece è stato approvato un progetto per 108.000 euro che riguarda le scogliere di Gimarra e quindi per la difesa della costa per la strada delle barche invece c'è una buona notizia mentre fino a ieri i soldi per la strada delle barche erano vincolati ad avere un progetto esecutivo entro il 31-12-2015 la regione anche su nostra indicazione ha spostato quei soldi li ha messi in un altro capitolo di spesa per cui avremo più tempo per realizzare l'opera e per spendere tutti i soldi che l'Europa ci ha dato proseguono in maniera spedita anche i lavori negli interquartieri opera che si spera possa essere conclusa entro il 2016 oggi è notizia di oggi è stato creato un bypass in via della trave all'altezza di via Ligure quindi nel quartiere Poderino via della trave e questo bypass servirà perché si stanno facendo i lavori di realizzazione della rotatoria su via della trave speriamo di raggiungere la fine del progetto entro brevissimo tempo e continuiamo a parlare di lavori pubblici e di grandi opere e anche opere incompiute qui a Fano ne è cara una la Fano Grosseto e allora il 7 dicembre il ministro delle infrastrutture Riccardo Nencini sarà nella città della fortuna per presentare il progetto della Fano Grosseto una notizia che ha anticipato ieri sera in primo cittadino il sindaco Massimo Seri un'iniziativa molto importante qui a Fano insieme al vice ministro insieme a Danas insieme al presidente della regione insieme al sindaco di Fano che vi ha lavorato molto devo dire e presenteremo il progetto della nuova Fano Grosseto io sono intervenuto ponendo la questione contraddicendo anche il presidente della regione un giornale locale la mese anche in evidenza con un titolo anche abbastanza forte e devo dire che qui il ministro e il viceministro si sono veramente impegnati insieme alla senatrice Fabri che ha seguito anche lei direttamente la questione e c'è stata questa risposta affermativa che vede la realizzazione definitiva entro il 2020 quindi non parliamo di anni biblici con un primo intervento con già risorse estanziate per 270 milioni e la somma complessiva negli anni è prevista quella di un miliardo di euro quindi parliamo di risorse importanti a quel punto aiutiamo anche una risposta a un'infrastruttura importante che aiuta anche la nostra economia e parliamo di pesca e del mondo della pesca domani venerdì 13 novembre alle ore 16.30 al Tag Hotel di Fano si parlerà dei problemi della pesca delle vongole saranno presenti il sottosegretario Castiglione il responsabile nazionale per la pesca di Coldiretti Tonino Giardini e il consigliere regionale Mirco Carloni nel convegno si farà anche il punto insieme agli operatori del settore sulle strategie e sui progetti di sviluppo di questo comparto fondamentale in termini di occupazione e valore aggiunto e adesso vi mostriamo delle foto una brutta pagina di degrado la prima che vedete è stata inviata e fatta da un report di strada e siamo in via Borgognina a Lucrezia di Cartoceto che è diventata una vera e propria discarica a cielo aperto quello che vedete appunto è della rumenta degli scatoloni contenenti di tutto pezzi di ferro pezzi di plastica carta involucri vari con dei panni veramente qualche cosa di brutto molto brutto da vedere ma ce n'è un'altra altre due anzi che riguardano sempre la stessa strada inviateci questa mattina da un nostro telespettatore e che ritraggono due conigli morti in una busta di plastica abbandonati proprio così sul ciglio della strada quindi insomma veramente brutte pagine brutte pagine e scarsissimo senso civico da parte di queste persone chiudiamo con una notizia in tono decisamente diverso parliamo di cucina parliamo di un concorso di cucina chef in the city e Chiara Sabati ha trionfato ieri sera durante i quarti di finale di questa manifestazione vediamo ha detto Chiara per una manciata di voti Chiara Sabati infermiera di Urbino abbattuto la consulente del lavoro Maddalena Vampa nel quarto di finale andato in scena ieri all'osteria del pisello di Sant'Andrea in Villis sia la giuria tecnica che quella popolare sono state abbastanza in linea nel premiare l'antipasto presentato da Chiara il tacchino si vesse d'autunno con polpettine di tacchino speziate con una salsa di zucca zenzero e insalatina autunnale uno staff di cucina fantastico mi hanno aiutato e sono stati veramente fantastici è stato veramente divertente una grande salata anche secondo di Maddalena dal titolo sfumature di verde con aresta di maiale impanata con pane verde zucchine in agrodolce e insalatina di mela verde con semi di zucca è stato giudicato all'altezza della situazione ma per soli sei punti la cartocetana si è dovuta arrendere alla sua avversaria non importa perché è stata una bellissima esperienza comunque mi è piaciuto cucinare in una cucina professionale visto che non l'avevo mai fatto e ho dato il meglio di me e comunque mi sono divertita e questo è stato l'importante questa sera invece ultimo quarto di finale al ristorante Il Galeone si sfideranno Umberto Gennari agente di commercio e il medico del 118 Maria Oliva Poggiani Ebbene con questa succulenta notizia chiudiamo qui questa edizione di Occhio alla Notizia grazie per essere stati in nostra compagnia buon proseguimento con i nostri programmi grazie per stasera è tutto Occhio alla Notizia torna domani sera